Bene la ripartenza, però spero che questa volta non si ritorni di nuovo indietro, perché anche questo tiro in molla continuo non fa bene ai nostri studenti, alle famiglie, non fa bene alla scuola in generale, nemmeno a chi lavora nella scuola. Insomma, sui banchi al 50% è senza ripensamenti a partire dal 25 gennaio nelle Marche. I lunghi mesi di chiusura sono stati e devono essere palestra per ripartire. La scuola in questi mesi ha avuto modo di organizzarsi attuando dei protocolli molto rigidi, per cui all'interno delle mura scolastiche possiamo dire che c'è abbastanza sicurezza. La sicurezza invece non c'è al di fuori delle mura scolastiche, quindi quando purtroppo i ragazzi fanno il tragitto casa-scuola. Proprio sull'extrascolastico puntano CGL Cisle Will con un documento congiunto, le richieste, una mappatura di tutti gli steward sui mezzi di trasporto, un'app per la prenotazione delle corse sulla scorta delle altre regioni e quindi la vigilanza nelle stazioni e nei luoghi di assembramento. È un volere evitare appunto un blocco bis e traghettare nel modo più diretto gli studenti a fine anno e i maturandi all'esame. Io spero che da questo momento in poi ci sia continuità nel percorso, quindi che questo 50% sia meno stabile, anzi vada ad aumentare sempre più, affinché comunque i ragazzi da questo momento in poi possano avere un percorso lineare che li porti comunque ad affrontare un esame di Stato dignitoso, che sia soddisfacente e anche che sia un po' il coronamento di un percorso.